Questa mattina, a cent'anni dalla scomparsa, Viadana ha reso omaggio a Cesare Aroldi, volontario garibaldino, avvocato, professore, deputato, scrittore e giornalista. Un illustre cittadino viadanese al quale è dedicata la via dove era nato il 21 giugno 1848. A tratteggiarne il profilo è stato il sindaco Cavatorta, grazie anche alla ricerca storica di Alessandro Bosoni. Aroldi fu una personalità di spicco della politica viadanese, ma fu anche professore in diverse città d'Italia. Feconda anche la sua attività giornalistica, fondò la voce di Belfiore, diresse il Corriere delle Marche e, una volta deputato e eletto nel collegio di Bozzolo nel 1904, si trasferì a Roma, dove collaborò con il secolo di Milano in qualità di corrispondente e anche al giornale Capitale. Fu anche a capo dei socialisti di Viterbo, prima di ritirarsi a Viadana nel 1914, dove continuò a scrivere fino alla morte.